Hanno combattuto per noi, pedaliamo per loro. È il messaggio di In Bici per la Libertà, pedalata in ricordo del settantesimo della Liberazione, presentata a Palazzo Lascaris. Realizzata grazie al sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione, l'iniziativa sensibilizza i cittadini sul ruolo delle staffette partigiane, che proprio con la bicicletta compivano i propri spostamenti.